Sul Teatro Romano c'è stato un botte e risposta su Facebook tra l'attuale sindaco di Teramo Gian Guido d'Alberto e l'ex sindaco Maurizio Brucchi. Brucchi, in merito alla sua presentazione, diciamo così, della conclusione della fase preliminare del recupero del Teatro Romano, ha scritto su Facebook che ci è rimasto male perché non è stato ringraziato per il lavoro che ha svolto. Un piacevole scambio di battute che dimostra quanto tutta la nostra città, quindi sia l'ex sindaco, il sottoscritto, la nostra amministrazione, ma tutta la comunità tenga e tengano al recupero pieno di funzioni del Teatro Romano. È chiaro che un progetto ha un percorso che viene da lontano e forse sul Teatro Romano da troppo lontano, così come ho scritto ieri nel post, ma assolutamente nessuna difficoltà e nessuna volontà soprattutto di oscurare un lavoro che è stato svolto nel corso di questi anni. Ieri la mia comunicazione era finalizzata proprio ad annunciare alla città questo risultato. Dopo 30 anni la città di Teramo ha finalmente il progetto definitivo per il recupero pieno e funzionale del Teatro Romano. Quello che abbiamo fatto noi nel corso di questo anno è stato decisivo perché abbiamo trovato una situazione ferma, di stallo, ingarbugliata e che rischiava di farci perdere il finanziamento da parte degli enti preposti. Abbiamo creduto perché per noi è una priorità molto in questo recupero, l'indirizzo politico è cambiato e abbiamo impresso un'accelerazione che ci ha portato prima alla redazione del preliminare e poi al progetto definitivo. Lei ha ringraziato anche Marco Pannella per questo risultato? Io ho ricordato la delegazione Teramana, c'era la vecchia amministrazione, io ero consigliere e ho combattuto da consigliere per questo obiettivo e poi Marco Pannella che è stato fondamentale anche nel dialogo, e Teramo Nostra nel dialogo con il ministro Franceschini che oggi, ironia della sorte, è tornato nel suo ruolo nella carica di ministro e quindi sarà fondamentale la collaborazione con il ministro che abbiamo già reso partecipe di questo risultato e con il quale quindi apriremo la fase conclusiva che ci porterà in consiglio comunale prima e poi a paltare i lavori ed avviare questo percorso. Anche con il dialogo, mi sento di ringraziarla veramente fortemente, il dialogo con gli altri enti finanziatori, quindi Fondazione Tercas, Regione Abruzzo e Ministero, la sovrintendenza, con la quale appunto mi sentivo di ringraziarla per il rapporto così importante che si è staurato istituzionale nel corso di questo anno e che dimostra quanto ci sia una grande attenzione rispetto alle potenzialità del patrimonio culturale della nostra città che non sono state espresse nel corso di questi anni. Non finisce qui perché adesso si prosegue in una fase che continua ad essere complicata e dobbiamo accelerare così come abbiamo fatto nel corso di questo anno del nostro mandato per poter arrivare in tempi brevissimi, spero entro la fine dell'anno, a chiudere tutta la fase procedimentale per poter andare a gara.